Un finale di stagione che pochi avrebbero pronosticato. Per Real Forio e Procida tutti si aspettavano una salvezza più che tranquilla. E invece, a due giornate dalla fine, le due solane sono ancora alle prese con i calcoli matematici per capire quanto manca a questa salvezza diretta, obiettivo stagionale di entrambe le compaggini. Una situazione che in realtà si è complicata solo ed esclusivamente per demeriti degli solani. Prestazioni superficiali e passive contro dirette concorrenti hanno fatto sì che diversi punti venissero persi lungo il cammino su ambo le isole. Allo stato attuale potrebbe accadere di tutto. Salvarsi in questo weekend, salvarsi all'ultima giornata o addirittura disputare il play-out. Ipotesi non impossibile. Arzanese e Stasia sono ormai già retrocesse. Ci sarà quindi da disputare eventualmente solo il play-out tra quart'ultima e terz'ultima. Tuttavia, anche questo turno potrebbe essere saltato nel caso in cui il Casagiove si portasse a più 10 sul Volla, che in tal caso andrebbe direttamente in promozione. Un'ipotesi comunque che tra le varie è sicuramente la meno probabile. Ritornando a fuori e procida, per ottenere la salvezza matematica, le isolane devono portare a casa almeno due punti nelle prossime due giornate. Tre darebbero la certezza della salvezza diretta. I ragazzi di Misteriovine andranno domani pomeriggio in casa del Casalnuovo. La squadra napoletana non ha più nulla da dire a questo campionato, ma è bene ricordare che le due società non sono legate da reciproca stima. L'ardor Casalnuovo recrimina ancora il titolo che fu portato l'anno scorso all'ombra del Torrione dal presidente delle Cave. I ragazzi di Cibelli invece saranno impegnati in casa della Sibilla, che con un solo punto sarebbe salva. Tutto, quasi, dipenderà comunque dallo scontro diretto tra Gladiator ed Hermes Casagiove, che si disputerà in contemporanea domani pomeriggio. Nel caso in cui trionfassero i neroazzurri, sia Realforio che Procida festeggerebbero, si fa per dire la salvezza. Dovesse vincere il Casagiove, tutto sarebbe rinviato all'ultima giornata. La soluzione più semplice sembra una sola, ovvero quella di portare a casa i tre punti nella trasferta di domani pomeriggio.